Per definizione Excel è composto da una griglia di lavoro e ogni cella che compone questa griglia di lavoro è definita da un nome standard, ad esempio in questo caso c'è la colonna D e la riga 4, quindi questa cella si chiamerà D4 se la vado a richiamare all'interno di una formula. Vediamo questa formuletta che va praticamente a calcolare la variazione di prezzo in base al prezzo d'acquisto, dove io ho tutti i riferimenti delle celle specifiche. Immaginiamo la formula un po' più complessa, può diventare difficile andare a leggerle e a scrivere, sarebbe molto più semplice avere una formula di questo tipo, dove io dico che voglio fare la variazione moltiplicata per il prezzo adiacente. Ma come ho fatto a creare questo nome custom, questo riferimento custom alla cella B9? È molto semplice, basterà selezionare la cella a cui vogliamo definire un nome oppure il perimetro di celle a cui vogliamo definire appunto il nome, andare in alto a sinistra in questo box e andare a definire il nome custom, quindi scriviamo il nome che noi vogliamo, premiamo invio e in quel momento noi avremo cambiato il nome standard di Excel con nome customizzato da noi.